Nel prossimo appuntamento di Vox Salute in onda venerdì 14 aprile in prima serata riflettori puntati sul metodo Ruffini, un trattamento dermatologico per la cura di patologie della pelle attraverso l'applicazione di ipoclorito di sodio diluito in acqua. Promette di curare oltre 100 malattie e disturbi della pelle e di mucose spesso insidiosi e resistenti alle cure tradizionali, dalle dermatite alle micosi di pelle e unghie, dalla candida al papilloma virus, dalle ferite alle infiammazioni, dall'herpes labiale al fuoco di Sant'Antonio, dalle ustioni di meduse alle scottature domestiche. Avremo in studio il dottor Paolo Ruffini e suo padre Gilberto, ideatore del metodo che porta il suo nome, brevettato nel 1996, che da allora continua instancabilmente l'attività di ricercatore, provando al tempo stesso, grazie soprattutto all'aiuto di altri amici e collaboratori, a diffondere il più possibile questo trattamento.